Dal 6 marzo scorso la galleria Cagulino che collega Urbina-Fermignano sulla strada statale 73 bis è stata riaperta in via parziale provvisoria con un unico senso di marcia in direzione Fermignano. Galleria che è stata riaperta dopo due mesi e mezzo di chiusura totale derivanti dalla straziante tragedia stradale del 27 dicembre in cui all'interno del tunnel morirono i quattro componenti di un'ambulanza proveniente da Fossombrone che si scontrò con un pullman di giovanissimi in gita proveniente dalla Scolano. A perdere la vita furono i soccorritori sanitari Cinzia Mariotti, Soccolo Xa, Stefano Sabatini e il paziente a bordo Alberto Serfilippi, illesi invece i componenti del pullman. L'incidente causa un vasto incendio che danneggiò in maniera radicale la galleria. ANAS è però intervenuta in tempi celeri per ripristinare almeno un senso di marcia, transito che infatti da un mese e mezzo è possibile grazie a primi lavori di rifacimento della pavimentazione e della verniciatura delle parti interne assieme al ripristino di un impianto di illuminazione provvisoria. Non mancano però i residenti e i pendolari della zona che chiedono lumi sugli step successivi. Vuoi perché il transito da Fana Urbino passando per Fermignano congestiona di traffico la vecchia strada delle Conce, vuoi perché al momento chi transita in quella zona vede un cantiere attualmente fermo. ANAS riferisce che eseguito il primo stralcio di lavori per un ripristino parziale è stata ora avviata la progettazione destinata all'esecuzione complessiva del ripristino della galleria. Un progetto al momento però vincolato ai tempi tecnici di realizzazione che dovrà poi condurre ad una gara d'appalto. Insomma ad oggi non esiste una tempistica certa per modificare l'attuale viabilità al cospetto di un intervento che si prospetta lungo, complesso e che costerà diversi milioni di euro.